sono tornata cara è arrivata la mamma e meno male ma guarda i tuoi bambini e li dai da mangiare sono così sciupati oggi cucina la nonna contenta ogni giorno ce n'è una per fortuna ho il mio piccolo segreto in cucina tranquilla oggi cucino io bucatini alla matriciana vedremo non rinuncerei mai alla mia scorta di guanciale a cubetti qui si racchiude tutto il gusto e la qualità dei prodotti beretta oltre 200 anni di esperienza hanno permesso di selezionare e lavorare le materie prime migliori per regalarci piatti sempre gustosi con i cubetti di guanciale beretta tutti gli amanti delle ricette tradizionali dai sapori ricchi e decisi potranno prepararle in modo pratico e veloce così anche i vostri bucatini alla matriciana saranno ottimi e a prova di suocera preferite il guanciale stick da oggi sarete accontentati anche voi eh sì beretta pensa proprio a tutti merito della sua vastissima gamma di prodotti e oggi grazie al concorso qualità beretta ricetta vincente si possono vincere premi incredibili due set di pentole ballarini al giorno un robot camboard chef a settimana e perfino una cucina scavolini acquista una confezione di cubetti e scopri subito se hai vinto sulla pagina facebook di beretta cubetti beretta ricetta perfetta